Sicuramente che volevo venire qua, infatti è un onore venire a una squadra come Palermo, sono molto contento, infatti mancava di sistemare qualcosa, però è importante che adesso sono qui, è pronto, carico per farlo bene. È vero che dobbiamo raggiungere la salvezza il più presto possibile, però il discorso di avere giovani nella squadra non è un discorso giusto, perché sono giovani, però con Cumi di Valla per esempio c'è tante qualità, abbiamo qualità pure in mezzo campo, tutta la squadra c'è tante qualità, conosco alcuni giocatori, infatti possiamo fare tranquillamente, se la abbiamo ogni settimana e tutti insieme credo che la facciamo facilmente. Con Mangia non ho parlato in specifico, però ho parlato con qualcuno giocatore, però già conoscevo il Palermo, già seguo Palermo da tanto, da Michele, da Peniglia, di Pastore, è una piazza che è molto importante, che posso fare bene e molto importante per me, per la mia carriera, però già conoscevo questa piazza.